buongiorno a tutti popolo dell'oro anche oggi c'è il sole e anche oggi condivideremo questa giornata ahimè col coronavirus però possiamo dimostrare di essere migliori sì anche oggi e come beh noi della golker ce la stiamo proprio mettendo tutta sì perché da pochi giorni è partita una nostra nuova promozione da oggi e per tutto il mese di aprile o fino a quando sarà necessario tutti i giorni regaleremo grammi di oro alla sst spedali di brescia al fine che possano migliorare tutto ciò che stanno facendo per salvare le vite umane sì perché hanno bisogno perché sono loro i nostri veri errori quindi ogni giorno noi ci sentiamo in dovere di essere migliori e regaliamo grammi d'oro vuoi sapere come seguici sul sito o sul nostro blog gold care oro punto it e troverai tutti i modi per poter partecipare anche tu a questa gara di solidarietà per sentirci tutti uniti ed essere migliori forza ragazzi insieme ce la possiamo davvero fare e ricordiamoci che l'ottimismo è il profumo della vita e anche con più ottimismo si è più forti tutti insieme e anche con la mascherina ciao alla prossima